Filippo Mone, candidato del centro-destra, si aspettava questo risultato? Sì, in parte lo aspettavo, è un dato significativo per il centro-destra a livello generale a carattere nazionale. Sono soddisfatto del mio risultato in quanto ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuto. Ad ora, nel momento in cui stiamo rilasciando questa intervista, sono io personalmente come candidato sino al centro-destra 4,50 punti sopra le liste, per cui è un successo personale e un riconoscimento alla mia persona, grazie a tutti gli elettori che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me. Un ringraziamento va al mio competitor, al mio amico Enzo Figlioli, a cui gli auguro ogni bene, la tranquillità e la serenità di poter governare questa città che la possa traghettare verso uno sviluppo certo nell'interesse della nostra comunità. Questa sua affermazione, in un certo senso, fa capire anche come l'è l'umore che c'è in giro a livello nazionale. Sì, ovviamente, io l'ho più volte anche attraverso la vostra emittente, l'ho detto, questo distacco della società civile nei confronti della politica. Io mi sono candidato affinché questo gap iniziale, questo allontanamento dei miei concittadini dal palazzo possa essere recuperato. E questo sarà uno dei miei punti principali su cui io mi batterò, affinché il palazzo possa essere trasparente e aperto a tutti per recuperare la fiducia nei confronti della politica, almeno a livello territoriale. Quindi lei farà il consigliere comunale? Sì, la gente mi ha voluto, mi ha votato con questo risultato superiore alle liste, per cui ritengo di almeno rappresentare l'intera coalizione di opposizione in questo momento, cercando di dare un contributo sicuramente costruttivo, di controllo a tutte le cose che saranno fatte nell'interesse e nella direzione di uno sviluppo sostenibile, come abbiamo sempre detto negli ultimi giorni di campagna elettorale.